Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, oggi ci troviamo sull'altare ardente, campi di vetro mercurio, destiny Non potevo che approfittare di questo gameplay proprio su questa mappa perché è stata la mappa che ieri Bungie ha utilizzato per andare a mostrare quello che sono Trice of Osiris, ossia le prove di Osirid nella nostra mateligua italiana e proprio di questo oggi andremo a parlare insieme Bene, Trice of Osiris, uno dei contenuti che prenderà luce solamente con l'uscita del DLC il 19 maggio Una modalità che si presenta e vuole essere una modalità multiplayer competitiva Innanzitutto andiamo subito a definire che cos'è, in che cosa consiste così magari per ingannare l'attesa che ci separa da qui fino al 19 maggio Beh, molto semplice, una modalità schermaglia rivisitata Come ben sapete in schermaglia vi sono due squadre composte da tre giocatori l'una che per raggiungere la vittoria deve cercare di raggiungere il punteggio di 10.000 I punti si accumulano andando a uccidere la squadra nemica, rianimando i compagni e quindi raggiunti i 10.000 punti si porta a casa la vittoria di partita Nelle prove di Osirida invece è una modalità che si disputa al meglio delle 5 Poiché nei singoli match che andremo a disputare per poterci portare a casa quello che possiamo chiamare un round dovremo eliminare in toto la squadra nemica quindi praticamente si sfrutta il concetto last man standing Quindi quando la nostra squadra riuscirà a eliminare in toto quella nemica porterà a casa il primo punto Ciao cellulare, potevi anche metterti muto prima che io facessi un video ma noi andiamo avanti lo stesso e non ci facciamo fermare da nulla E quindi una verità sicuramente molto interessante perché si va sicuramente a esaltare quello che è l'aspetto competitivo non solamente anche per quello che è la tensione che si accumula non dobbiamo morire perché comunque per quanto possiamo essere rianimati esattamente come in schermaglia beh, quando la nostra squadra muore totalmente abbiamo dato un punto, un round al nostro nemico e questo sicuramente non vogliamo perché vogliamo essere noi i primi a portarci a casa i 5 round ma soprattutto tutto questo viene esaltato al massimo dal fatto che le prove di Osiride non sono ad accesso gratuito sì, gratuito sì, perché non sono ad accesso libero perché? Perché poter entrare all'interno di questa modalità dovremo andare a comprarci un gettone di partecipazione da parte del fratello di Osiride che troviamo sull'atollo sul reef appunto l'atollo un gettone di partecipazione che probabilmente verrà acquistato con lumen, particelle di luce ancora un attimo da vedere con chiarezza tutto questo con questo gettone di partecipazione potremo giocare all'interno delle prove di Osiride fin tanto che non conseguiremo il numero massimo di vittorie o al peggio non riporteremo tre sconfitte quando verremo sconfitte tre volte all'interno delle prove di Osiride quindi tre partite perse perderemo la possibilità di... dovremo ricoprarci l'ingresso e quindi c'è una tensione maggiore voi state giocando, la vostra partita dovete farla bene ma soprattutto dovete farla bene perché se la fate male vi tocca rispendere altri soldi per continuare a giocare quindi verranno premiati quei giocatori che si concentreranno molto quelle squadre che si alleneranno per cercare di dare al meglio all'interno di una modalità che effettivamente sì, come ho già detto un po' di volte esalta quello che può essere l'aspetto competitivo che al momento, magari nel classico PvP di Destiny quindi non è che possiamo avere mai effettivamente visto molto interessante oltre a questo, logicamente, questa modalità ci darà accesso a delle ricompense ricompense che saranno disponibili in base al numero di vittorie che abbiamo avuto all'interno di Trials of Osiris quindi se noi avessimo conseguito tre, quattro, cinque vittorie potremmo accedere a quello che può essere il casco agli stivali, alle varie ricompense che settimanalmente si andranno a ruotare altra cosa che ruoterà settimanalmente saranno anche le mappe perché quando giocheremo all'interno di Trials of Osiris ogni settimana avremo una mappa diversa si andranno quindi, andranno a ruotare anche le mappe cosa molto importante, quindi abbiamo parlato di ogni settimana nuove mappe, eccetera siamo abituati ai weekly reset di Destiny quando si terranno, quando sarà possibile giocare questa modalità? molto semplice, dalle 10 Pacifico e che in pratica per noi significa dalle 7 di sera di venerdì fino al reset della settimanale quindi praticamente avremo tempo da venerdì alle ore 7 fino a martedì alle ore attualmente alle ore 11 con l'attuale fusorario legale se non sbaglio, con quello solare che verrà saranno poi le ore 10 e logicamente poi dalle 6 di sera insomma, logicamente fate tutte le conversioni del caso insomma, devo dire che in qualche modo sono soddisfatto della modalità comunque, perché Schermaglia è una modalità che mi piace molto sono... mi piace molto giocare in Schermaglia forse è una delle modalità che più mi piace del PvP questa forse andrà a essere ancora più piacevole più divertente da giocare quindi non vedo l'ora avete visto che adesso stavo usando un attimo le pesanti con il lanciamissile ebbene abbiamo visto anche che solamente dopo il round 3 al round 4 poi quello che sarà il round 8 e difficilmente il 12 perché la Peter 3 sarà già finita quindi al round 4 ed eventualmente si raggiungerà anche il round 8 spawneranno le pesanti quindi le pesanti saranno disponibili solamente al massimo in due round questo ho anche potuto dire positivo perché sicuramente una partita costellata solamente da pesanti potrebbe risultare frustrante quindi dovete sfruttare al meglio le pesanti in quel round perché quello dopo non ce l'avrete più quindi anche questa è una cosa sicuramente rilevante da dire perché nel multiplayer di Destiny le pesanti hanno e rivestono un ruolo molto importante altra cosa importante poi per voi sarà quello di gestire la squadra di riuscire a creare un team ben bilanciato che comunque alla fine potrebbe posare a entrare tutte le tre le classi quale titano, strigone e cacciatore ma perché no anche una squadra più aggressiva con più cacciatori, due cacciatori e un titano oppure tutti i strigoni che si reanimano e ma da faca cioè fate quello che volete quindi pensateci veramente molto molto interessante questa modalità detto questo appunto stavo dicendo della mia soddisfazione di questo DLC di questa modalità ma forse quello che un po' mi ha invece non soddisfatto totalmente è stata la presentazione di ieri di partiti Bungie non so voi vedendo la stream magari dopo un po' di entusiasmo iniziale però beh sì insomma piacevole, bella, mi è piaciuta ma è stata un po' più banale rispetto a quella precedente perché questo? perché hanno mostrato una serie di partite sempre nella stessa mappa per carità ci può stare magari mi sarebbe piaciuto visto che si parlava di multiplayer di iniziare a vedere e mettere mano su quelle che erano le altre mappe per carità se andate su YouTube le potete trovare ma una cosa è vedere il video caricato da qualcuno è un conto è vedere il video ufficiale Bungie in cui magari vi mostra tutte le mappe e c'è il level design che vi parla beh qui abbiamo scelto questo abbiamo fatto questo e vi dà delle motivazioni concrete che rendono insomma tutto anche un po' più figo in qualche modo bene niente io vi ringrazio per la vostra attenzione cosa pensate anche voi amanti di Destiny di questa nuova modalità di quello che abbiamo visto prossimamente ci saranno la prigione degli anziani in italiano sì sì dovrebbe essere questa la traduzione sono sicuro e quindi anche il prossimo giovedì andremo a vedere insieme quello che rimane mi raccomando suggerite ai vostri amici anche di iscriversi a questo canale siamo a Serodestini perché sicuramente sarà il canale perfetto per loro perché gli darò un sacco di suggerimenti e gli insegnerò come cittare su Destiny no scherzo questo no va bene ragazzi io sono Lego mi raccomando non dimenticatevi un bel pollicino in su se vi fosse piaciuto questo video se l'avete visto comunque con piacere grazie di essere stati qui insieme a me il commentino è sempre gradito l'iscrizione è veramente un piacere è una immensa libidine e noi ci vediamo come al solito prossimamente su questo canale con i prossimi video ciao